Importantissime novità in edilizia. Con la legge di stabilità 2025 sono stati prorogati tutti i bonus, a parte il bonus verde, fino al 31 dicembre 2027, ma con delle novità. Sono state mantenute le spese massime detraibili, che per quanto riguarda il bonus ristrutturazioni, vi ricordo, la spesa massima detraibile è di 96.000 Euro, così come anche per il sisma bonus. Mentre per gli ecobonus le ritrazioni massime detraibili variano in base alla tipologia di intervento, ad esempio per quanto riguarda la sostituzione dell'impianto di climatizzazione e di riscaldamento, il massimale detraibile è di 30.000 Euro, mentre per quanto riguarda, ad esempio, la sostituzione degli infissi e la coibentazione dell'involucro opaco, il cappotto, fondamentalmente la spesa massima detraibile è di 60.000 Euro e così via per tutti gli altri interventi. Il bonus mobili è stato prorogato senza alcuna modifica anche sulla percentuale di detrazione che resta al 50% per il 2025, mentre sembrerebbe che dal 2026 in poi questo bonus non esisterà più. Passiamo alle percentuali di detrazione. Qui è stata fatta una distinzione, qualora ad intervenire sia il proprietario o un titolare di un diritto reale su un'abitazione principale. Per quanto riguarda bonus e ristrutturazione, sisma bonus e eco bonus, l'aliquota è pari al 50% della spesa sostenuta. Nei prossimi giorni realizzerò un video sul concetto di abitazione principale, da non confondere con la definizione di prima casa e seconda casa. per interventi su altri immobili o comunque realizzati da soggetti differenti dal proprietario o da un titolare di diritto reale, l'aliquota scende al 36%. Infine, dal 2026 in poi e per tutto il 2027, se ad intervenire fosse un proprietario o un titolare di diritto reale su un'abitazione principale, l'aliquota scenderebbe al 36%, mentre per interventi su altri immobili realizzati da soggetti differenti dal proprietario o da un titolare di diritto reale, l'aliquota scenderebbe ulteriormente fino al 30%. Ad oggi la legge di bilancio è ancora una bozza, ovviamente deve seguire tutto un iter per diventare definitiva. Quindi potrebbero esserci delle leggere variazioni rispetto a quello che ti ho detto e proprio per questo motivo ti consiglio di iscriverti al mio canale YouTube, ma anche ai miei canali Telegram e WhatsApp per restare aggiornato. e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!